Ammirabile Vergine, con piena fiducia ricorro a te. Mi confido a te. Sperando che mi esaudirai nelle mie necessità. E che mi aiuterai nella mia prova umana. Ringraziandoti in anticipo ti prometto di divulgare questa preghiera. Consolami. Ti supplico in tutti i miei bisogni e difficoltà. Ricordandomi del profondo gaudio che riempì il tuo cuore. All'incontro col Salvatore del mondo nella tua casa a Betania. Ti invoco. Assistimi come pure i miei cari. Affinché io rimanga in unione con Dio. E che io meriti di essere esaudito nelle mie necessità. In particolare nel bisogno che pesa su di me. Con piena fiducia ti prego. Tu. Mia Auditrice. Vinci le difficoltà che. Mi opprimono come pure hai vinto il perfido drago. Che è rimasto vinto sotto il tuo piede. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Marta. Prega per noi.